ciao fiorellini ciao fiorelline speriamo che l'avevo messo bene stavolto prima vi faccio vedere come sono vestita oggi mi sono vestita così oggi facciamo video spesa allora questo qui ai pizzellini ci hanno mandato prescia ci siamo scordati pure qualche cosa questo due poi lo zucchero questa è i patchouli quest'altro a soli allo pisellini fini quante sono? quattro di queste che mio mario c'ha sempre prescia quando facciamo poi ho comprato due di questi qua per fare dolci fare biscotti o vediamo se faccio un video ricetta i dolci poi ho comprato la cimenta carne in gelatina proviamo se riesco a fare la dieta ieri mi sono scaminata con la petana due poi ci sta il pesto la mozzarella poi ho comprato i yogurt sempre con latte vabbè però i yogurt e la dieta non mangiare queste cose poi i spaghetti però sta tutto meschiato un altro cosa di questo qua ecco sono ritornata e prosciutto cotto i biscotti i biscotti e i creghi senza grudire mortadella e non so perché sono seguita non so quanto ci stanno due mortadelle guardate quanto è mortadelle guardate quanto è mortadelle uno due tre quattro cinque sei sette mortadelle sei picci quelli che picci sette oggi sono più rallentata perché si sta guarino che mi fai così un momento a poco poi ritorno la pasta un'altra due tre quattro e cinque e cinque un momento a poco poi ritorno ecco sono ritornata ci sta il mais latte non so quante buste sono di latte poi ho comprato un certo sino che l'ho pagato 8 euro e 75 non so se riesco a farvelo vedere panna il pesce l'olio d'oliva il limone e questo è il prosciutto cotto per me sono uno due tre quattro ancora pasta ancora tonno o piselli un'altra di creche yogurt senza lattosio questo è un po' coci latte un altro pesce che uno c'è a coperchio e uno no c'è a coperchio e uno c'è a coperchio e uno c'è a coperchio non c'è a coperchio però quello mancava oddio una casca la pasta 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 qui lo sta levando zucchero e un'altra volta la mozzarella ecco sono ritornata l'aceto yogurt alla banana ah questo è di raggede yogurt alla banana ah no questo è yogurt alla vaniglia salcicce che era pagata 3,75 euro non so dove sta lo scontrino guarda querino cosa hai trovato ooh tutte querine lo trova lebar idi acquastrell e lebar ehm il pl Cinco è una pesata panna e i pisellini e adesso vado a prendere l'altra spesa sono ritornata eccomi pomodoro ancora tanto mischiato perché il latte ancora latte questo è scostrino lo facciamo dopo e coca cola per guerrino eccola l'abbiamo trovata cittadino 5 euro e 38 pomodoro ancora olio ancora guarda questo com'è tentato latte il yogurt e il diacchieri e olio d'oliva ora vado a prendere l'altra busta ecco sono ritornata carta igienica pane senza glutine questo qua pane quando mi faccio i panini così pasta il bagliatello l'arancia crudine succo di arancia e la bottiglia d'acqua di peguerino frizzante e una bottiglia di acqua per me naturale adesso abbiamo finito e vediamo quando abbiamo speso tutto lo scondrino ok non lo piego vi faccio vedere perché oggi per chi ha 60 anni c'è lo sconto però guarda il tuo scontriere non lo so dove sta questo è il primo scontriere 110 euro non so se si vede non so se si vede si vede non so se si vede e ci ha fatto vedere questo qua 10 euro e 71 ecco questo è il continuo ecco questo è il continuo che si ha fatto a Rachele la spesa allora ha comprato vabbè io ho comprato i crocchetti per gatto e i crocchetti per cane poi Rachele ha comprato 9 euro e 5 centesimi parmigiano e un altro pezzo e un altro pezzo a 6 euro e 63 di parmigiano ok poi ha comprato i camberoni poi l'acqua ah no l'acqua l'avevo comprata io questa ha comprato il salmone che io ci ho fatto matto ah l'acqua oliveto perchè c'è il calcio per l'osso il troverà buono questo eh ah l'acqua eh vabbè l'acqua 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 e questo cucciolo buono buono tè ah che roba buona senza lattosio buono buono sono ritornato ah ma immaginavo non si comprava questi questi qui buone due che ragazzi ci va matti poi ah panno cotto guarda io oggi mi hanno messo a dieta ah, parmigiano tu l'hai comprato parmigiano? no, però ci stanno più ah, carne macinata l'ho comprata un chilo ieri si, ma devi fare un hamburger ah, devi fare un hamburger due la panna ecco, adesso ritorno ecco, sono ritornata la cosa più buona come la faccio vedere l'uovo di pasqua chissà cosa ci troverà questa volta poi, il vento chiaro perché è questo? tutti e due lui vai l'occhiare e io me la fotocamera e niente, se l'ha appannata perché è sporca mi do la panna l'incelato buono 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 la pizza buono panna cotta panna cotta tazza yogurt con la cioccolata non so, queste gocce di cioccolato yogurt con gocce di mais a cioccolato al latte buoni questi il pesce il pesce è fritto mmm ma come le piace a me ragheri? cosa mi piace? buona eh? cosa mi piace? ancora mi piace questa qui con le caramelline 2 parmigiani 2 parmigiani 2 parmigiani 3 tè 3 tè 3 tè adesso è finito questo video spero che vi è piaciuto mettete i tappi like e iscrivetevi al mio canale ciao piavellini ciao